un saluto a tutti siamo al video numero 5 per quanto riguarda gli esercizi di ripelico sui sistemi due per due interi ultimo per questa tipologia dal prossimo iniziamo con i sistemi fratti in cui dovremo prima di risolvere il sistema scrivere le condizioni di esistenza ma veniamo al primo sistema di questo video un mezzo x più y al quadrato meno x al quadrato mezzi più x più y mezzi meno x terzi meno x y questo primo membro uguale y quadro mezzi meno due terzi y seconda equazione x meno y terzi meno uno uguale meno x più 3 y fratto due seconda equazione andiamo a sviluppare i calcoli per quanto riguarda la prima equazione abbiamo il quadrato del binomio moltiplicato per un mezzo quindi x quadro per un mezzo è un mezzo x quadro il doppio prodotto moltiplicato per un mezzo quindi più un mezzo per due volte x per y e qui c'è questa semplificazione la facciamo subito più un mezzo per y al quadrato il quadrato del secondo poi riscriviamo meno un mezzo x quadro qui dividiamo la frazione quindi abbiamo un mezzo x più un mezzo y cioè x meno x più y mezzi poi abbiamo meno un terzo x meno x y uguale un mezzo y al quadrato secondo membro meno due terzi y la seconda equazione la moltiplichiamo per sé in modo da eliminare i denominatori e ci dà 6 di su 3 2 2 per x meno y quindi meno 3 per x meno 3 per 3 9 y prima equazione un mezzo x quadro meno un mezzo x quadro e 0 un mezzo y quadro un mezzo y quadro un mezzo y quadro e 0 poi abbiamo x y meno x y è 0 e quindi possiamo scrivere un mezzo x ma abbiamo anche il meno un terzo quindi raccogliamo il fattore comune la x ho riscritto questo termine meno questo raccogliendo il fattore comune appunto la x come detto e poi abbiamo stessa cosa facciamo per la y un mezzo più due terzi da secondo membro non abbiamo termini noti quindi questo è uguale a 0 per la seconda equazione abbiamo 2x meno 3x al secondo membro che diventa più 3x al primo quindi 5x poi meno 2y meno 9y al secondo membro che al primo membro diventa più 9y quindi 7 meno 2 scusate 9 meno 2 è 7 volevo dire 7y e questo è uguale al meno 6 al secondo membro che è 6 prima equazione primo termine minimo comune multiplo 6 6 diviso 2 3 meno 6 diviso 3 è 2x secondo termine tra parentesi minimo 1 multiplo sempre 6 6 diviso 2 è 3 più 6 diviso 3 è 2 per 2 4 y uguale 0 la seconda la riscriviamo così com'è 5x più 7y uguale 6 e poi 3 meno 2 è 1 quindi un sesto x più 3 più 4 7 7 sesti y uguale 0 5 x più 7 y uguale 6 moltiplichiamo la prima equazione per 6 ed abbiamo x più 7y uguale 0 e quindi 5x più 7y uguale 6 usiamo il metodo del confronto ricaviamo 7y da entrambe le equazioni quindi 7y meno x uguale scusate meno x e poi 7y uguale 6 meno 5x ora la prima la riscriviamo per seconda perché ricaveremo y e confrontiamo i secondi membri e quindi scriviamo meno x uguale 6 meno 5x e quindi meno 5x a primo membro è 5x che con meno x mi da 4x uguale 6 dividiamo per 7 la seconda equazione e abbiamo y uguale meno un settimo x la prima la dividiamo per 4 in modo anche qua da ottenere x uguale abbiamo x uguale 6 quarti che è 3 mezzi sostituiamo nella seconda e quindi meno un settimo per 3 mezzi è meno 3 quattordicesimi quindi la soluzione del sistema è la coppia ordinata x uguale 3 mezzi y uguale meno 3 quattordicesimi secondo sistema prima equazione 2x meno 1 al quadrato meno x meno 2 che moltiplica 4x più 3 uguale y meno 1 per y più 2 meno y al quadrato seconda equazione x meno 2y fratto 2 meno un quarto che moltiplica 2 meno x questo è uguale a un quarto che moltiplica 5 meno y seconda equazione primo termine prima equazione è il quadrato di un binomio quindi abbiamo quadrato del primo 4x quadro meno il doppio prodotto quindi 2 per 2 4 per x più 1 al quadrato del secondo e ora il prodotto di due binomi x per 4x è 4x quadro x per 3 è 3x meno 2 per 4x è meno 8x e poi meno 2 per 3 meno 6 uguale anche qui c'è il prodotto di due binomi y per y e y al quadrato y per 2 è 2y meno y 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 quadro la seconda la moltiplichiamo per 4 4x meno y 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 meno Prima equazione, possiamo già eliminare y al quadrato e y al quadrato, poi togliere le parentesi a primo membro. Abbiamo 4x quadro meno 4x più 1 meno 4x al quadrato meno 3x più 8x più 6. Secondo membro abbiamo 2y meno y che è y, che a primo membro è meno y. E il meno 2 lo lasciamo a secondo membro, uguale meno 2. Seconda equazione, 2x più x è 3x. E poi abbiamo meno 4y più y dal secondo membro, che è meno 3y. Il meno 2 a primo membro lo portiamo a secondo membro, che sommato al 5 mi dà 7, quindi uguale 7. 4x quadro meno 4x quadro è 0, poi abbiamo meno 4x meno 3x è meno 7x più 8x è x. Poi c'è il meno y e poi abbiamo 1 più 6 è 7, a secondo membro è meno 7, aggiunto a meno 2 è meno 9, quindi uguale meno 9. La seconda la possiamo dividere per 3 perché ci accorgiamo che facendo questo il sistema è impossibile. Infatti, 3x per un terzo è x, meno 3y per un terzo è y, uguale 7 terzi. Primi membri uguali, secondi membri diversi. Sistema impossibile. Se vogliamo andare a scrivere l'equazione che ci dà l'assurdo, possiamo sottrarre, quindi riduciamo il sistema e ci accorgiamo che al primo membro abbiamo 0 più 0, quindi 0, al secondo membro abbiamo meno 9 meno 7 terzi. Quindi 0 uguale meno 9 meno 7 terzi, sistema impossibile. meno 9 meno 7 terzi è meno 27 meno 7 terzi, cioè meno 34 terzi. Magari scriviamolo, facciamo questo ulteriore passaggio. 0 uguale a meno 34 terzi, appunto, come detto, sistema impossibile. Vediamo il terzo sistema. x più y, che moltiplica, apro parentesi quadra, meno, scusate, 1 meno x meno y, chiuso a quadra, più x al quadrato. Questa è una frazione che ha, a denominatore, 6 più 2 terzi meno y quadro sesti, uguale a 2 meno 3 mezzi più x più y quarti. Seconda equazione, y più 4 su 3 è uguale a x meno 6 su 2. Ecco, possiamo moltiplicare la prima equazione per 24, il minimo comune multiplo, e la seconda per 6, il minimo comune multiplo. Ora, 24 risio 6 è 4, quindi la prima equazione è 4. Ora, x più y per la parentesi quadra mi dà x più y. Manteniamo la parentesi quadra. Poi abbiamo meno x più y per x meno y. È la differenza di quadrati scomposta, quindi ricomponiamola. otteniamo meno x al quadrato, ricordiamoci che c'è il meno davanti alla parentesi, più y al quadrato. Chiudiamo la quadra. Abbiamo più 4x quadro, fa sempre parte della stessa frazione, più 24 riso 3 è 8, per 2 è 16. 24 riso 6 è 4, quindi meno 4y quadro, uguale 48, 24 per 2, meno 24 riso 2 è 12, e quindi per 3 mi dà 36, più 24 riso 4 è 6, quindi 6x, più 6y. Seconda equazione, 6 riso 3 è 2, quindi 2y più 4. Secondo membro, 6 riso 2 è 3, 3x meno 6 per 3, 18. Ora, per la prima abbiamo, andiamo più sotto, 4x più 4y, meno 4x quadro più 4y quadro, più 4x quadro. il 16 lo portiamo a secondo membro, quindi meno 4y quadro, poi abbiamo il 6x e il 6y da secondo membro, che diventano negativi. Questo è uguale a 48, e poi abbiamo meno 36, meno 16, che mi dà meno 52. Per la seconda portiamo il 3x a primo membro, il 2y lo lasciamo lì dov'è, il 4 a secondo membro, scusate, qui non è più 4, perché 6 diviso 3 è 2, e abbiamo 2y più 8, e quindi il più 8 a secondo membro è meno 8, che sommato al meno 18 mi dà meno 26. Ora, per la prima semplifichiamo, meno 4x quadro più 4x quadro più 4y quadro, meno 4y quadro, poi abbiamo 4x meno 6x, che è meno 2x, 4y meno 6y è meno 2y, poi a secondo membro abbiamo 48 meno 52, che è meno 4, quindi uguale meno 4. moltiplichiamo la seconda per meno 1, e otteniamo 3x meno 2y uguale 26. Questo passaggio non è fondamentale, però preferisco, come già detto nei precedenti video, avere come primo termine un termine positivo, e quindi lo faccio anche per la prima equazione, qui la moltiplico per meno un mezzo, visto che tutti i coefficienti sono divisibili per 2, e ottengo, semplificando, x più y uguale 2. La seconda rimane 3x meno 2y uguale 26. Ora qui andiamo con la sostituzione, quindi ricaviamo x dalla prima, x uguale 2 meno y, sostituiamo nella seconda, 3 per 2 meno y meno 2y uguale 26. x uguale 2 meno y, 3 per 2 è 6, meno 3y, meno 2y uguale 26. x uguale 2 meno y, e poi meno 3 meno 2 meno 5y uguale 26 meno 6 da primo membro, è 20. Dividiamo per meno 5 la seconda, e abbiamo y uguale meno 4, sostituiamo nella prima e otteniamo x uguale 2 meno meno 4, cioè più 4, e quindi la coppia ordinata a soluzione del sistema è x uguale 6, y uguale meno 4. Ultimo sistema per questo video, abbiamo un mezzo, x meno 2y, che moltiplica 2x meno y, meno un terzo x per 3x meno 1, uguale, un terzo y che moltiplica 1 meno 15 mezzi x più 3y e, chiusa la parentesi tonda, più 5 sesti. Questa è la prima equazione. Seconda equazione, un mezzo che moltiplica 3x meno 1, meno un terzo che moltiplica y meno 2x uguale 3 mezzi x più un sesto che moltiplica 2y più 7. Bene, prima equazione, un mezzo x per 2x è 2x quadro, x per meno y è meno xy, meno 2y per 2x è meno 4xy, e poi abbiamo un 2y per meno y che è più 2y al quadrato. Meno un terzo x per 3x è meno x quadro, meno un terzo per meno 1 è più un terzo x, meno un terzo x per meno 1 è più un terzo x, uguale un terzo y meno, ora devo moltiplicare un terzo y per meno 15 mezzi x, il segno già l'abbiamo messo, quindi 15 diviso 3, semplifico il denominatore della prima e il numeratore della seconda, che è 5, 5 mezzi, x, y, più un terzo y per 3y è y quadro, più 5 sesti. Seconda equazione, un mezzo per 3x è 3 mezzi x, e poi abbiamo un mezzo per meno 1 è meno un mezzo, meno un terzo per y è meno un terzo y, poi abbiamo meno per meno più, un terzo per 2 è 2 terzi x. questo è uguale a 3 mezzi x, più un sesto per 2y è un terzo y, e poi un sesto per 7 è più 7 sesti. Ora, un mezzo per 2x quadro è x quadro, meno un mezzo x y, meno un mezzo per 4xy è 2xy, più un mezzo per 2y è y quadro, meno x quadro più un terzo x, qui lasciamo intanto a secondo membro, e quindi un terzo y meno 5 mezzi xy, più y quadro più 5 sesti. Seconda equazione, tre mezzi x, tre mezzi x fa 0, e quindi abbiamo due terzi x, questo, meno un terzo y a primo membro, meno un terzo y da secondo membro a primo membro, mi dà meno due terzi y, e quindi questo e questo li abbiamo sommati, e poi a secondo membro, 7 sesti più un mezzo da primo membro. Prima equazione, x quadro meno x quadro è 0, y quadro, y quadro è 0, poi al primo membro abbiamo meno un mezzo, meno due x y, cioè meno un mezzo, meno quattro mezzi, vale a dire meno cinque mezzi, e quindi possiamo eliminare col meno cinque mezzi x y a secondo membro. Qui rimane un terzo x, meno un terzo y da secondo membro, questo è uguale a 5 sesti. seconda equazione, due terzi x meno due terzi y, è uguale a 6, al numeratore abbiamo 7, più 6 diviso 2 è 3, quindi 7 più 3. Ora possiamo moltiplicare entrambe le equazioni per 6, eliminiamo, lo ripeto per l'ennesima volta, i denominatori quando possiamo, quindi 6 diviso 3 è 2, 2x, 6 diviso 3 è 2, meno 2y, uguale a 6 diviso 6 è 1, quindi uguale 5, è la prima equazione. Seconda equazione, 6 diviso 3 è 2, 2 per 4, 4x, meno 6 diviso 3 è 2, quindi stessa cosa, 4y uguale a 6 diviso 6 è 1, 7 più 3 è 10. Dividiamo per 2 la seconda equazione e ci accorgiamo che abbiamo la stessa equazione, quindi questo sistema sarà un sistema indeterminato. Scriviamolo, 2x meno 2y uguale a 5 e 2x meno 2y uguale a 5. Ora riscriviamoci la prima equazione, perché tanto è uguale alla seconda, quindi inutile specificarlo, e poniamo y uguale a un parametro reale, quindi h appartiene ai numeri reali. Ricaviamo x dalla prima equazione, quindi x uguale a 5 mezzi più 2 mezzi y, cioè y e y uguale ad h. Sostituiamo e abbiamo che x è uguale a 5, mezzi più h, quindi infinito a 1 soluzioni. Sappiamo che in questo caso possiamo scrivere in forma vettoriale la soluzione, il vettore delle incognite x, y è uguale al vettore colonna al vettore colonna 5 mezzi 0 più, raccolgo a fattore comune, un h che moltiplica il vettore 1, 1. Questa scrittura in forma vettoriale ci tornerà utile in seguito quando vedremo esercizi sui spazi vettoriali. Bene, questo era l'ultimo sistema di questo video. Per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio. Condividete i sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale. Perché no? In descrizione i miei contatti, email, Instagram, Facebook. Grazie, un saluto a tutti e vi rimando al prossimo video. Grazie, un saluto a tutti.